Saluto l'Arcivescovo Caccucci e ringrazio e saluto Claudia Colla. Claudia, questo discorso che abbiamo fatto, Claudia, con Monsignor Caccucci, di una vita che deve essere aderente e coerente, ma partendo comunque da un messaggio che è quello evangelico, è quello che unisce, il fioroso che unisce queste due parti, perché, Claudia, noi da una parte o ci impegniamo troppo, anche come cristiani, a fare, oppure al contrario, non riusciamo a tradurre in azioni la parola. A te la parola ha cambiato la vita, è la misericordia del buon Dio. Quando è che hai scoperto il potere delle letture, il potere di quelle parole? All'inizio del mio cammino, perché non avevo un padre spirituale, non avevo un sacerdote ancora che mi seguisse spiritualmente e avevo bisogno di capire come seguire il Signore. Ma tu fino a quel momento cosa sapevi? Avevi mai letto una pagina del Vangelo? Beh, da quando ero piccolina, però non mi ricordavo più niente, quindi ascoltare la parola di Dio in chiesa, proclamata, mi faceva entrare nel mondo di Dio. E quello mi affascinò moltissimo, perché cominciavo a conoscerlo attraverso la sua parola. E poi, un giorno, io frequentavo il Santuario della Rivelazione. Le Tre Fontane. E andavo a pregare in questo piccolo santuario, perché lì trovavo pace. È un luogo bellissimo, molto semplice, immerso nella natura. E Maria è proprio rappresentata come la Vergine che ha in mano, tiene fra le mani la Bibbia. E quindi andavo a pregare lì. E un giorno esco da questa piccola grotta e nella bacheca vedo l'orario delle sante messe, nella chiesa accanto dell'Immacolata. C'era la celebrazione eucaristica, quindi dico desidero andare a partecipare alla santa messa. Entro nella chiesa dell'Immacolata e invece incontro la parola di Dio, proclamata da quello che poi è diventato il mio padre spirituale, che la spiegava attraversando tutta la Bibbia, passando dal Vecchio al Nuovo Testamento. E questo è stato per me folgorante, perché ho detto comincio. E' quello il punto di partenza. Bellissimo. Quando hai capito che però quella parola paradossalmente, provvidenzialmente, era stata scritta proprio per te Claudia, perché a volte c'è difficoltà, si dice, ma quello, io non centro niente con questa roba, è roba vecchia. Ed invece? No. E allora, per capire quanto è stato fondamentale per me la parola, proprio come guida, come lampada ai miei passi, è che io venivo da un vissuto con delle abitudini ormai, no? Lontane dalla legge di Dio. E quindi una conversione deve essere fondata necessariamente su un cambiamento anche di stile di vita, di modo di pensare. E quindi bisogna conformarsi alla parola. Più velocemente ci si conforma la parola, la si accoglie, la si vive, sforzandosi di viverla, perché poi dopo comincia la lotta nel quotidiano, dove il sacramento della riconciliazione è potentissimo, perché tu riconosci con umiltà la tua fragilità, la tua debolezza, di fronte a quella parola che non riesci a vivere, e poi arriva la grazia con il sacramento della riconciliazione. Il Signore ti dà quella forza spirituale per poter fare un passetto in avanti. Quindi, diciamo, io la parola l'ho sempre accolta per viverla, sapendo che però, diciamo, questo mi costava anche un cambiamento. Cos'è la prima cosa che tu comprendi attraverso le scritture? Il primo principio che ti trascina in tutto questo? È l'amore. No, no, è l'amore. Lo dici, quando lo dici, ti illumini a punto tale che ora... No, è l'amore, tanto è vero che... Anche ai miei ragazzi, quando si è trattato di insegnare come si comunica la parola, ma la parola in generale, come si interpreta la parola, io sono sempre partita dalla Bibbia, perché ho pensato sempre come i bambini ebrei imparano a leggere attraverso la Sacra Scrittura, ecco, perché non lo dobbiamo fare noi. Che cosa abbiamo di meno? Abbiamo, semmai, diciamo, il Signore Gesù Cristo, quindi abbiamo il Vangelo. E allora, quindi, ho cominciato a lavorare, questo poi mi ha aiutato moltissimo, ho cominciato a lavorare sulle scene del Vangelo con i ragazzi, facendogli leggere o con i salmi, i salmi sono ancora più semplici, perché sono poetici, ma molto umani, e quindi anche trovare l'armonia nella comunicazione della parola. Quindi, mentre la pagina del Vangelo mi permetteva di entrare nella scena, di studiare la scena, l'antefatto, e quindi torniamo indietro, o andiamo, vediamo cosa è accaduto prima, che cosa accade dopo, immaginiamo che cosa, diciamo, in quel momento avrà attraversato il cuore di quella persona che ha risposto in quel modo, e come avrà detto quella cosa Gesù. Questo li metteva in movimento come attori, perché dovevano in qualche modo, diciamo, lavorare anche con la propria creatività. E questo l'ho fatto soprattutto con i ragazzi che erano più disponibili nella fede. Claudia, per questo motivo, quando ti viene chiesto di dare, come dire, il tuo sostegno, supporto, ad un'opera molto interessante, da parte di Giovanni Iber, che ti dice vogliamo provare a commentare la parola giorno per giorno, ma renderla carne. Esce fuori questo non di solo pane vive l'uomo, che guardate, è uno dei, lo voglio dire, ci riserranno tanti di esperimenti, perché con l'istituzione della giornata della parola, voluta da Papa Francesco, che ci fa capire proprio che quello è il motore, da lì dobbiamo partire. Molti si stanno misurando con questa impresa. La particolarità però qual è? E' il profumo della vita concreta. Cioè quando quelle parole dentro il tuo cuore, nella tua opera, sono diventate davvero impegno, metterci la faccia, metterci il cuore, arrivare poi agli ultimi. Il passaggio da quella ascolto, da quella comprensione, da quell'amore al fare, come è avvenuto in te? Ma è un'urgenza del cuore. Nel momento in cui cominci a vivere la parola e ti scommetti sulla parola, perché io ho scommesso tutta la mia vita sulla parola. Hai mai messo in conto che poteva essere invece una scommessa persa? No, perché quando inizia una conversione di una persona che viene da molto lontano, c'è un buio assoluto, un buio assoluto dentro. Ci sono le tentazioni. E come reggi il timone della tua vita interiore, spirituale? e non diventi matta. Bellissimo. Perché io mi sono fatta la domanda... Questo non l'hai mai detto a nessuno, di questo sono concreta. No, io lo dico a tutti, quando mi confronto con le persone che sono in una situazione difficile, la concretezza, la vita vissuta, il Vangelo vissuto nella vita di tutti i giorni, questo non ti fa impazzire, perché ti rende molto concreto, con i piedi per terra. E la seconda cosa è proprio scommettere su Dio, basta, punto, chiudere tutte le altre... Fidarsi di Lui. Fidarsi di Lui e non farsi troppe domande. E buttarsi, ecco, buttarsi e fidarsi di Dio. La copertina vuole dire questo, perché nella copertina c'è Gesù misericordioso, dove Gesù ha chiesto proprio che fosse diffusa questa immagine per trasmettere un messaggio di fiducia. E ha voluto che fosse scritto sotto questa immagine, Gesù confido in te. Quindi un pilastro fondamentale per la nostra fede è la fiducia in Dio. Claudia, ti firmo a questo pilastro, perché lo dobbiamo ben piantare in terra. Se no scorrere le pagine del tuo libro sarebbe inutile. Ci rendiamo un minuto in pubblicità. La conversione di Claudia Cole credo sia una pagina nota a molti. Ogni volta che noi la invitiamo scopriamo sempre un passaggio in più. Condessato, se volete, è un'avventura letteraria. Secondo me straordinaria, perché la parola del giorno viene unita alla vita concreta. È un po' forse la sfida che Claudia Cole si porta addosso a ogni quotidiano. Perché, Claudia, la copertina di Gesù misericordioso che tu hai sperimentato nella tua carne, vuol dire tante cose. Che quando ci hai parlato di tentazioni, si riferiscono proprio a un messaggio di Gesù molto chiaro. A quel non vivere di solo pane. Tu lo leghi proprio alle tentazioni. Perché? Perché Gesù, al tentatore, gli dice non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Nel primo periodo, ma ancora oggi, ma soprattutto nel primo periodo in cui io mi trovavo avvolta da tentazioni, da tenebre, da difficoltà proprio ad affrontare l'esperienza che stavo vivendo, la parola di Dio mi è sembrata proprio come un'ancora di salvezza. Tu davvero hai creduto di impazzire, Claudia? Beh, all'inizio sì. Perché avevo fatto un'esperienza del maligno forte e avevo fatto un'esperienza di Dio altrettanto forte. Cioè, potevo anche a un certo punto, no, perdere di vista la realtà. E quando le tentazioni si sono fatte, le tenebre si sono fatte più fitte, allora ho detto io scommetto su Dio. Perché Dio mi ha salvato nella prima tentazione con potenza e quindi io scommetto su Dio. E però, questo poi nella concretezza, cosa voleva dire? Perché io non è che ho cominciato a fare i primi passi e sono tornata in chiesa. Cosa ha voluto dire? Ha voluto dire ascoltare quella parola. Tornare a quella parola. E sceglierla. E dire, va bene, Gesù dice che è la verità. E il maligno è la menzogna. Io scelgo la verità. Sai, Claudia, più ti conosco, e a parte il fatto che tutto sei forche pazza di questo, possiamo, penso lo sa, anche il mondo che ormai ti chiama, ti acclama, ha bisogno di sentirsi raccontare queste cose. Ma faccio un passaggio in più. Arriva un momento in cui quella roba che ti esplosa dentro non te la tieni più per te. E chi è accanto a te, magari anche viene, forse dal mondo che hai vissuto prima, comincia a farsi le stesse domande. Non senza la paura di impazzire. Questa è la storia di Elena Bono, che è una scenografa, anche molto brava. Guardate che si confessa con grande coraggio. Ascoltate le sue parole. La testimonianza, bellissima, messa in piedi dal nostro Giuseppe Cutrona. E balsamo per le nostre orecchie. Ed è un rafforzativo di tutto quello che hai detto finora. Guardate. Sono Elena. Faccio la regista di teatro e la giornalista. Ma soprattutto faccio una vita in cui cerco il più possibile di aiutare gli altri. La mia storia sul volontariato parte da tantissimi anni fa, insieme a Claudia. Nel senso che è Claudia stata la prima a portarmi in un cammino di fede e di carità. Ho cominciato con lei ad andare ad aiutare extossicodipendenti o malati di AIDS. Poi Claudia ha fondato le opere del padre ed è stato inevitabile che io cominciassi a far parte anche di questa sua associazione che aiuta proprio le persone più bisognose e più disperate. Ho cercato proprio di andare giornalmente a messa e di ragionare in un altro modo, cioè accanto a Gesù. Non è così semplice farsi capire. Soprattutto nella mia famiglia adesso incominciano un po' più che a capirlo, accettarlo. perché è chiaro che è anche comprensibile che un genitore, un fratello eccetera, quando ti vede magari dedicare tantissimo tempo a qualcosa che non ha da loro punto di vista un riscontro immediato o un riscontro economico, per loro è molto difficile da capire. Finché non la si prova, non si sente questa voglia di aiutare dentro, non si ha la fortuna, secondo me, di avere questa sensazione precisa, questa emozione precisa, molto difficile da capire. Chiaramente sento la fatica ogni tanto, però ormai fa parte proprio della mia vita. Ho imparato a vivere, avere una vera vita, perché prima, per me quella che facevo prima, anche se non era una cosa tremenda, non facevo delle cose che mi piacevano, un lavoro che mi piaceva, ma non era la vera vita. Io ora sento di fare la vita che ho sempre voluto, ma che non sapevo nemmeno qual era. È una testimonianza bellissima per la quale ringrazio la collega, coreofra, regista, è straordinaria. E' una buona e anche molto umile nel riconoscere che tutto questo non è che ci arriva dal cielo, Claudia. Anche tutto quello che possiamo imparare, magari aprendo la paginetta del giorno, perché ogni giorno c'è un pensiero che ci riporta anche a delle storie. Questa è la particolarità. Le opere del padre sono state storie di vita, sono state le tue storie, sono ancora storie di uomini e donne che voi accogliete a cui date un pasto caldo. Ecco, la doccia, tagliate i capelli, la preghiera. E tu fai capire che quella parola diventa veramente, un nome e un cognome diventa carne. Sì, sì, gli spiego la parola. Quando preghiamo alle tre del pomeriggio la coroncina della Divina Misericordia, estraiamo una tesserina dove c'è un versetto e da quello partiamo per fare una meditazione. E questo libro è pieno di volti, di storie. Di nomi e cognomi. Sì, non mi sono permessa. Cognomi non tanto, devo dire la verità. Nomi, hai ragione. Ma ci sono tante storie belle, tante storie molto umane, perché poi incontrare Gesù vuol dire fare un viaggio nell'umano, sperimentare la bellezza dell'umanità. Restare umani pur avendo gli occhi di cielo, cosa vuol dire, Claudia? Eh, pregare. Trovare il tempo di pregare, di stare in comunione con Dio. Allora, Dio ti fa vedere le cose con altri occhi. Io avrei tante storie, so che siamo in chiusura. Però c'è un ragazzo che un giorno ci ha creato un po' di problemi. E io ero profondamente scoraggiata, perché non sapevo come aiutarlo. Il suo comportamento quasi voleva dire cacciatemi fuori da questo centro, perché era molto ribelle. Io sono andata davanti al Santissimo, davanti a Gesù, e gli ho detto cosa posso fare per aiutare questa persona. E il Signore mi ha dato un pensiero. Mi è venuto in mente di fargli fare un'attività, conoscendone i particolari perché voglio rispettare la persona. Perché sapete che i nostri poveri poi si riguardano tutte le trasmissioni. E' bellissimo questo. Come sta? Dici solo questo, Claudia. Stanno bene, sì. Insomma, alla fine, diciamo, si è messo in movimento e ha smesso di creare tutti quei problemi che stanno... Allora, posso dire una cosa? Non di solo pane, è questo. Io faccio fatto peccato, perché in una parte del libro ho cominciato a dare troppa importanza alle storie, ho rischiato di distrarmi dalla parola. Voi non lo fate, perché in realtà la storia non è altro che conseguenza di tutto quello che qualcuno più grande di noi ha scritto. Ha scritto per noi. Vieni con me, le opere del padre. Se abbiamo problemi a ricordarci cosa fare a Natale, proviamo a pensare anche alle opere del padre. Lo sai che porti sempre il buono qui dentro? E allora, buona domenica a tutti voi da Claudio Paul e da Lucia. Ci vediamo se Dio vuole lunedì con Don Luigi Verdi e con altre storie d'amore bellissime. Monica Di Loreto, a te. Grazie.